L'importanza del seminario di oggi voluto da simbola sul tema dell'economia circolare diventa di fondamentale importanza in questo momento storico. Parlare di sostenibilità è una sfida, non è un problema, va accompagnata rispetto a quello che è il tema della digitalizzazione, dell'innovazione, di tutto ciò che l'agricoltura può offrire non solo nella produzione di cibo ma come modello produttivo che può ricadere anche su altri settori. La sfida è lavorare con tutta la filiera e non per singoli soggetti. Questo è quello che stiamo cercando di realizzare grazie al lavoro di Colli Retti e Simbola in modo congiunto per dare risposte costruttive alle nuove generazioni ma all'intera collettività.